L'Anter è l'associazione nazionale a tutela delle energie rinnovabili. La nostra associazione nasce nel 2009 e oggi conta già 120.000 tesserati in tutta Italia, di cui 40.000 sono solo in Campania e quindi ha un peso specifico molto importante. Noi nasciamo con l'idea di promuovere e sviluppare quello che è la green economy in Italia, dalla tutela delle energie rinnovabili al sostegno alla mobilità sostenibile. Nel convegno di oggi saremo qui a portare quello che è il pensiero dei nostri tesserati e quello che è il lavoro che noi stiamo svolgendo appunto per sensibilizzare le istituzioni a promuovere sempre di più delle leggi che vadano in questa direzione. Nella giornata vedremo un po' quelli che sono i dati e soprattutto noi crediamo fortemente che il futuro sia elettrico e quindi ci siamo attuati già da oggi per andare in questa direzione. Grazie. 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 Grazie.